Come sapete ha cominciato Obama a parlare di Open Government nel 2009, a gennaio, quindi ormai da un po'. Queste slide, suppongo e spero, saranno pubblicate, quindi la faccio corta. La NASA ha parlato di Open Government. Ne parliamo noi come Stati Generali dell'Innovazione, che chi non lo sa è una meta-associazione, una sorta di associazione di associazioni che mette insieme chiunque abbia voglia, interesse, piacere e competenza, occuparsi di innovazione. Abbiamo definito alcuni punti che abbiamo poi pubblicato in un e-book con Garamond, che è la casa di Tirice che l'ha pubblicato. Sono ovviamente sotto Creative Commons e se avete voglia lo troverete googlando Garamond e Stati Generali Innovazione. Il prossimo lo stiamo facendo come il primo a tante mani, nel senso che chiunque voglia può partecipare e si intitolerà le 100 parole dell'innovazione che la politica non può ignorare, perché ci siamo resi conto che i politici purtroppo non sempre ci danno retta. Questo secondo noi siamo pronti sia alla partecipazione attiva, che a una governance e a un governo 2.0, saremmo pronti, va? Trasparenza, informazione come infrastruttura, sviluppo economico e quant'altro. E pensiamo, abbiamo impostato una sorta di struttura di liberi saperi, gestita con criteri trasparenti e aperta. Abbiamo chiamato Consulta Permanente, che è una consulta super partes partecipata da tutti gli stakeholder dell'innovazione, da governo, amministrazioni, imprese e quant'altro, con l'idea di tentare almeno di mettere in piedi informazioni, notizie sull'open government, ma non solo, sull'innovazione, per evitare quantomeno di rifare gli stessi errori del passato. La partecipazione è una delle parole chiave dell'open government, partecipazione ovviamente anche con le tecnologie. Una delle prime cose che mi dicono di solito è sì però i cittadini italiani non sono pronti a partecipare. Questa è la fotografia davanti alla stazione di Pisa, io abito lì, e questo sarebbe un'aiuola, sarebbe, dico perché, come vedete, il verde non c'è più, perché è sulla geodetica tra le strisce e l'entrata in stazione. Quando uno va alla stazione, arriva all'ultimo minuto, rischia di perdere il treno e non fa il giro intorno all'aiuola, va dritto. Questo è un messaggio chiaro, partecipativo, che i cittadini stanno dando a quell'architetto che ha fatto quella cavolo d'aiuola, sperando che la prossima volta lì ci faccia un piccolo camminatoio. È un esempio ovviamente, però noi partecipiamo e come? Forse sono loro che sono un po' meno pronti ad ascoltarci. Per questo l'ebook di cui vi parlavo. Come obiettivi e strategie abbiamo definito alcuni diritti, che sono quelli di cui immagino condividiate, quindi non sto nemmeno ad andarci di dettaglio. Perché va indietro? Eh vabbè, fa come gli pare. Perché partecipare, non lo devo dire tanto meno, alla comunità del software libero, che è una comunità che si occupa esattamente di questo. Gli obiettivi e strategie, e questi forse sono quelli su cui ha più senso insistere per quanto ci riguarda. Adozione di software libero, adozione di open standard, adozione di formati aperti per i contenuti dei dati pubblici, obbligo per la pubblica amministrazione di open data, quindi open by default, digitalizzazione dei servizi, adozione di open metadata, open access e modelli di licenza aperti. Quindi accesso ai dati, alla rete, ai procedimenti. I requisiti sono ovviamente normativi, ma ce n'è probabilmente già abbastanza, tecnologici, però forse non è poi così scontato che le tecnologie siano lontane, come in questa vignetta sembrano. Che cosa manca secondo noi? Sicuramente più accesso, perché per fare open government è la connettività, quantomeno è la parte di base, più fiducia, più trust, trust che manca, nelle due direzioni, attenzione, non è solo il cittadino che non si fida della pubblica amministrazione, ahimè, ma spesso anche viceversa, più innovazione, più volontà politica, più coesione, perché troppo spesso succede, e l'abbiamo visto nella Costituzione di Stati Generali, quante volte succede, siamo tante anime diverse, per fortuna, no? Quindi pensiamo anche un po' diverso, e la diversità deve essere un valore, invece diventa sempre, troppo spesso, motivo di scontro, e in questo senso, quella dopo, più laicità, a volte ci lasciamo spingere da una sorta di guerra di religione, che se facciamo però come i crociatici, andiamo a sbattere contro i mulini a vento, e riusciamo a non fare un po' di passi alla volta, io temo, ormai la mia età, mi aiuta a capire che non si riesce ad avere tutto e subito, bisogna combattere e non mollare, è una roba da fondisti, non è una roba da centometristi. Quindi open government per nuovi cittadini, che passano da sudditi a protagonisti, per la politica che passa da impositiva a partecipativa. Ci vuole più consapevolezza da parte dei cittadini, dei propri diritti, da parte dei politici, dei propri doveri. Le vignette ve le guarderete, e questo è quello che ci piacerebbe fare, innovazione a prova di futuro, ovvero quello che noi mettiamo adesso in campo, che regga anche il nostro futuro. e con questo io mi fermo. E passo la parola a Ernesto, tua. Sì, di botto. Grazie. Ernesto Belisario, in effetti, pecco di leggerezza, perché so che lo conoscono tutti, e quindi è un avvocato, ma non solo, è un geek e non un nerd, se posso dirlo. È un appassionato di tecnologie, che lavora da tanto su tutto ciò che ci piace, in particolare è presidente dell'associazione Open Government, quindi non a caso parla ora a te. Grazie. Sì, più che altro io in questo momento mi presenterei come cittadino, neanche digitale, cioè come cittadino. La discussione che vorrei fare oggi, avevo delle slide, poi sono stato moderatore della sessione precedente, mi sono reso conto quanto è ingrato il compito di moderatore, soprattutto se c'è qualcuno che ha preparato almeno 20 slide, e dietro 20 slide c'è una ponderazione, concetti o altro. E allora ho pensato che forse, invece di correre dietro a delle diapositive, che poi magari pubblichiamo comunque, avevo la voglia di condividere con voi, proprio qui, una serie di considerazioni che mi sto cominciando a porre, come giustamente dice Flavia, con cui abbiamo fondato l'Associazione Italiana per l'Open Government, Ormai noi da tempo, da quel lontano dicembre del 2009, guardiamo ad Obama, al governo Obama, come un modello da replicare, e però poi, alla fine, probabilmente noi, come cittadini, abbiamo fatto una serie di errori, perché mentre noi guardavamo Obama, che faceva delle cose, il resto del mondo, faceva l'Open Government. Cos'è l'Open Government? Innanzitutto, comincio ad avere problemi con questo termine. L'Open Government, in realtà, sembra un'etichetta, ma non lo è, perché noi in questi anni, siamo stati abituati alle etichette, U Government, E Government, T Government, ogni tanto, Gov 2.0, ogni tanto ci mettiamo un'etichetta nuova. In realtà, l'Open Government, che sembrerebbe essere l'ultima delle etichette, destinata, chissà, tra un po' ad essere soppiantata dallo Smart Government, che, come dire, va un po' più di moda, forse, in queste ultime settimane, in realtà, l'Open Government è un concetto abbastanza vecchiotto, nell'ordinamento giuridico, o comunque nella dottrina. Il primo articolo in cui si parla di Open Government è un articolo del 1958, sulla George Washington Law Review, una delle riviste di diritto più blasonate degli Stati Uniti d'America, in cui si parla di Open Government, cioè un'amministrazione basata su tre pilastri. La trasparenza, ovviamente trasparenza non vista in modo buayeristico, voglio vedere la macchina del Presidente del Consiglio, a me, per esempio, non fa nessuna impressione sapere il modello di autovettura posseduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vorrei più che altro sapere, invece, quali sono i dati relativi alla spesa pubblica, quali sono i dati relativi al Ministro della Sanità, piuttosto della sotovettura, se il numero di pazienti che è stato sottoposto ad intervento al cuore, qual è la percentuale di pazienti che sopravvive, se da quando lui è Ministro è aumentata o diminuita, questo mi interessa, non la sua autovettura, quindi trasparenza, come strumentale a prendere decisioni, decisioni per l'amministratore, decisioni per il cittadino, decisione in ultima istanza può essere il voto, ma può essere anche decidere dove aprire uno stabilimento industriale, un'attività commerciale, magari mi rendo conto che a Roma forse ci sono oltre 20.000 avvocati e potrei aprire invece uno studio a Trento, dove la percentuale è più esigua e probabilmente potrei avere un business migliore, oltre che stare più fresco in questo periodo. Il secondo pilastro è la collaborazione, e cioè amministrazioni, come diceva Flavia, che non guardano i cittadini come sudditi, ma che li guardano come dei partner, e il terzo pilastro è la partecipazione, partecipazione ai processi decisionali, quindi partecipazione, collaborazione e trasparenza. Dicevo, queste sono cose che noi diciamo da tempo, da quando parliamo di partecipazione, da quando parliamo di trasparenza, beh, più o meno dal 1990, poi, come dire, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di sapere quanti sono gli esodati e noi non sappiamo quanti sono gli esodati. Se vivessimo in uno degli oltre 80 paesi dove esiste una legge che si chiama FOIA, Freedom of Information Act, ciascuno di noi potrebbe andare o un'associazione delle tante percenti qui, potrebbe andare agli uffici competenti, fare un'istanza e avere il diritto ad avere quella affermazione. Allora, questa è la differenza tra una democrazia ottocentesca, se così la vogliamo definire, ed una democrazia del nuovo millennio. L'open government è la declinazione di democrazia, cioè se oggi vogliamo definirci stati democratici siamo questo. Ho avuto la fortuna di partecipare come osservatore al prima conferenza dell'open government partnership che si è tenuta a Brasilia dove il segretario di Stato americano Hillary Clinton, e sì, perché lì di questi temi discutono i capi di Stato e di governo, non sono dei temi per geek o per qualche appassionato o qualche tesista, sono i temi che affrontano i capi di Stato e di governo. E la Clinton, scusandosi perché non c'era Obama, che non è che ha mandato l'ultimo dei funzionari della Casa Bianca, ha mandato comunque il segretario di Stato, ha detto dobbiamo evitare di pensare che ci sia una distinzione tra paesi del primo e del terzo mondo, tra paesi del nord e del sud, la definizione che è la distinzione che accompagnerà i paesi di cui ai prossimi vent'anni sarà quella tra paesi aperti, paesi open e paesi closed, cioè paesi chiusi, democrazia aperte, finte democrazie che hanno una costituzione democratica soltanto per sedere nell'Assemblea delle Nazioni Unite, se voi leggete alcuni dei paesi che sono nell'ONU, sapete perfettamente che in realtà la democrazia virtuale della Costituzione non corrisponde a una democrazia reale, ma è ovvio che noi come Italia dobbiamo aspirare ad altro. Allora la domanda che mi sono posto presentando il paper a questa conferenza, qual era? Possiamo imparare dall'estero? Ci sono delle cose che noi siamo in condizioni di replicare? Beh in realtà di buone prassi che noi possiamo replicare sono tante, però dobbiamo partire da due concetti. Il primo è Open Government. Io ho visto che ci sono tanti paesi in cui si parla di questo tema, però proviamo a declinare il concetto in italiano. No, noi qui oggi parliamo di software libero. E allora mi piacerebbe che noi cominciassimo a declinare l'Open Government in modo tale da rendere accessibili a tutti, perché altrimenti è come quando parliamo di spending review, c'è sempre qualcuno che non ci capisce. Visto che invece stiamo parlando di democrazia, ci devono capire tutti. E allora forse è il caso di cominciare a parlare di governo aperto. Aperto a cosa? Aperto alla trasparenza, aperto alla partecipazione, aperto alla collaborazione, aperto all'innovazione. Per carità è una proposta, ve la lancio lì e poi voi mi dite cosa ne pensate. Il secondo tipo di equivoco che dobbiamo smontare è che l'Open Government è qualcosa che attiene alla tecnologia. Le tecnologie aiutano l'Open Government, ma l'Open Government non è qualcosa di tecnologico. Nella slide che avevo preparato, ve la faccio vedere soltanto questa da tablet, in India, nei paesi, nei comuni dove la banda non arriva e dove non c'è internet, sulle mura delle case fanno l'affissione del bilancio del comune. Per carità, il FOIA, il Freedom of Information Act nasce in Svezia dove il borgomastro quando faceva i lavori di ristrutturazione della casa comunale teneva gli atti lui aveva pagato i lavori teneva le fatture che gli hanno fatto quelli che avevano eseguito i lavori riteneva chiunque poteva andare a vederle nasce 200 anni fa in Svezia il FOIA quando noi parliamo di queste cose quindi stiamo parlando di cose che non richiedono necessariamente è chiaro che la tecnologia ci aiuta ci sono da questo punto di vista un paio di esempi assolutamente fantastici penso alla gestione delle emergenze all'estero qui come ben sapete senza la televisione o la radio che ci dia una mano noi nella gestione delle emergenze siamo abbastanza negati invece negli altri paesi sui siti istituzionali una delle prime cose è aiutaci darci una segnalazione abbiamo una bella mappa collaborativa dove ognuno può fare la propria segnalazione e così se il ponte è interrotto perché c'è stato il terremoto l'alluvione o l'uragano tutti sono in grado di vederlo senza intasare il call center che ovviamente probabilmente non riuscirà a rispondere allora oppure faccio questo esempio perché mi ha particolarmente colpito noi di solito cosa facciamo commentiamo quello che i politici quel giorno decidono che è il tema del giorno se è l'articolo 18 parliamo tutti di articolo 18 poi noi abbiamo un problema mediamente condiviso ma non siamo in grado di farlo arrivare in Lettonia hanno fatto una cosa carina il Parlamento con un atto auto-organizzativo ha detto che tutte le petizioni che raggiungono in un certo periodo un determinato numero di sottoscrizioni vengono messe all'ordine del giorno dei lavori sono i cittadini che decidono l'agenda e l'ordine del giorno dei lavori parlamentari addirittura voi potete non essere dei giuristi e presentare in bozza un disegno dopodiché se il disegno raggiunge quelle migliaia di firme che sono richieste lo staff degli uffici legislativi vi dà una mano a formulare in modo tecnico la vostra proposta come dire le buone prassi da questo punto di vista esistono non mancano e non stiamo parlando della virtuosa America o della come dire ancora più virtuosa Inghilterra stiamo parlando di paesi come il Kenya dove le consultazioni pubbliche non si fanno in Italia soltanto via web che durano sette giorni quindi se voi avete una vita e magari del lavoro probabilmente non siete in grado di partecipare in modo compiuto ma per carità chi fa delle consultazioni via web che durano solo sette giorni forse non vuole che i cittadini partecipino davvero alle consultazioni ma le consultazioni lì le hanno fatte con un pullman che ha girato 30 tribù per spiegargli che probabilmente se non hanno l'acqua corrente un po' è anche colpa della corruzione e quindi una democrazia con trasparenza e partecipazione aiuterebbe a far arrivare anche l'acqua corrente nei villaggi e nelle tribù un altro caso e qui chiudo per lanciarvi una serie di provocazioni perché poi all'ultimo vi farò una domanda la Georgia uno dei paesi che Hillary Clinton nel suo discorso a Brasilia ha citato come esempio fulgido di open government è la Georgia cioè l'ex repubblica baltica nata nel 2003 la Georgia era uno dei paesi più corrotti del mondo da un punto di vista come dire giuridico hanno lavorato su trasparenza innovazione freedom of information act leggi contro la corruzione ebbene lì il presidente della Georgia aveva comprato uno stand oltre che una pagina sull'Economist per dire siamo il primo paese al mondo nella lotta alla corruzione e la nostra adesione ai criteri dell'open government ci rende il settimo paese al mondo per attrazione di investimenti dall'estero secondo la World Bank quindi inutile parlare di articolo 18 di riforme costituzionali la vera architettura che dobbiamo modificare è quella della nostra democrazia e l'Italia? beh l'Italia anche ha fatto un bel piano ha fatto un bel documento dove ha detto noi faremo un sacco di cose perché noi in realtà siamo un paese trasparente noi siamo un paese aperto allora la mia idea la mia provocazione la domanda che giro a voi qual è l'indicatore per capire se è un paese trasparente? cioè mettiamo che adesso nel mondo c'è la gara così come ci sarà nelle città e nelle regioni a dire io sono la regione trasparente io sono l'amministrazione trasparente siamo in condizioni di metterci intorno a un tavolo a fare un ragionamento su quali possono essere dei criteri per definire e valutare qual è il livello di apertura e di trasparenza di un governo perché altrimenti sentendo i capi tutti i governi sono aperti poi invece noi siamo i cittadini e ci rendiamo conto che le nostre amministrazioni scarsamente lo sono chiudo con la frase di Jonathan Gray della Open Orange Foundation che è una frase che mi è sempre piaciuta dice ricordiamoci con riguardo agli open data e al loro potere salvifico perché per alcuni bastano gli open data per fare tutto che i dataset non cambiano il mondo perché il mondo lo cambiano le persone quindi come dire se non cambiamo le persone il loro modo di ragionare e di rapportarsi tra loro difficilmente pubblicare un dato online potrà servirci a qualcosa grazie 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 grazie